Quindi l'idea è di lavorare per non essere più parte del problema ma parte della soluzione e quindi portare un cambiamento positivo. Ciao, siamo Lucia Mauri e Lorenzo Malavolta e state ascoltando il podcast Intrecci Etici. Intrecci Etici è un documentario prodotto da Luma Video che racconta la rivoluzione della moda sostenibile in Italia. Abbiamo creato questo podcast per continuare la discussione sul tema insieme a persone del settore e ispirare altri al cambiamento. A guidarci in questo sarà Sara Zampollo, esperta di moda sostenibile. Buon ascolto! In questo nuovo episodio del podcast di Intrecci Etici avrò il piacere di chiacchierare con Stefano Bassi di Patagonia, brand che non ha bisogno di molte presentazioni ma comunque è un brand di abbigliamento leader nel settore outdoor che ha fatto della sostenibilità ambientale la sua missione principale. Innanzitutto, ciao Stefano e grazie per aver accettato il nostro invito. Ci fa molto molto piacere averti qui con noi. Ciao Sara, grazie a te di avermi invitato. Allora, io partirei proprio da te, dal tuo percorso. Quindi hai voglia di raccontarci un po' chi sei, qual è il tuo background e come sei arrivato poi al tuo ruolo attuale in Patagonia. Sì, io sono Stefano Bassi. In realtà ho iniziato a lavorare da Patagonia una quindicina di anni fa circa, poco meno, in negozio qua a Milano, semplicemente perché avevo bisogno di un lavoro in quel periodo. In quell'epoca venivo da un decennio speso a lavorare in un rifugio in montagna e anche a studiare scienze ambientali. Non mi sono mai laureato ma ho studiato a lungo e sicuramente questo connubio tra vivere parte dell'anno in montagna in un posto piuttosto isolato e quindi completamente circondato dalla natura e nello stesso tempo studiare le cose della natura all'università hanno creato una specie di noccio di attivismo, quantomeno insomma l'amore per la natura e la volontà di preservarla. Sono entrato a Patagonia per caso, non conoscevo nulla di quello che Patagonia facesse a livello ambientale, di sostenibilità, di responsabilità aziendale. L'ho scoperto durante il mio colloquio di lavoro e diciamo che quindi mi sono trovato nel posto giusto. Nel tempo in Europa, anche in Europa, Patagonia si è dotata di un'organizzazione un po' più solida, un po' più strutturata anche a livello di dipartimento enviro, chiamiamolo, per cui ci sono dei miei colleghi ad Amsterdam che lavorano solo su quello e in tutti i negozi c'è qualcuno che coordina le attività ambientaliste e anche poi a livello regionale. Quindi c'è una struttura in cui sono entrato trovandomi già lì di fatto. Per cui oggi parte del mio lavoro, oltre a lavorare in negozio, parte del mio tempo lavorativo è speso nel cercare di creare e nutrire comunità di attivisti in senso molto lato che ruotano attorno ai tre negozi che abbiamo, che Patagonia ha in Italia, di proprietà. Che è una posizione un po' strana per un marchio di abbigliamento che fa retail però in realtà è molto in linea con quello che facciamo. Esatto, è un lavoro un po' particolare, un ruolo un po' particolare ma quali sono gli aspetti che ti appassionano di più del tuo lavoro? Ma allora, naturalmente l'aspetto che mi appassiona di più è proprio questo quindi diciamo tutte le attività che chiamerei environ, insomma, ambientaliste. Tuttavia, perché è anche una parte del lavoro che mi sono scelto e creato da me perché l'azienda comunque ha fornito, come dire, l'humus perché questo accadesse naturalmente. Sono anche legato al mio lavorare in negozio perché soprattutto per un ruolo come il mio che è strettamente legato alle comunità locali avere un po' al polso della situazione, di quello che succede, di come reagiscono le persone al di là di poi vendergli la giacca o il pile, no? Credo che sia fondamentale. Però sicuramente, insomma, questo ruolo un po' strano mi permette di dialogare con molte associazioni, con le università, con altre aziende che sono, diciamo, più o meno orientate agli stessi percorsi e questo sicuramente è molto interessante nel momento soprattutto in cui si riesce a creare poi una connessione tra tutti questi diversi attori perché la cosa che è chiara è che nessuno può farcela da solo, ecco. La crisi climatica è dietro l'angolo, anzi è dietro l'angolo, è già presente ed è la più grossa sfida che abbiamo insieme alle molte altre che coinvolgono il pianeta e sicuramente la cosa che si è capita è che non ce la fa l'attivismo da solo l'attivismo nel senso più tradizionale non ce la fanno le aziende da solo, non ce la fa la politica da sola ma bisogna che tutti lavorino allo stesso tavolo ed è per questo anche che ci definiamo un'azienda attivista. Certo, infatti la vostra community di attivisti è molto importante appunto proprio per l'azienda come sappiamo il settore tessile ha un enorme impatto ambientale siamo passati nel giro di pochi anni parlavamo prima di cambiamento climatico ora parliamo di crisi climatica e spesso da intrecci etici magari ci capita di chiacchierare con delle piccole realtà, delle piccole realtà locali per cui è molto più semplice risultare sostenibile comunque con una filiera corta o comunque con appunto una produzione locale molto piccola ma cosa cambia invece in un'azienda di così grandi dimensioni presente praticamente in tutto il mondo e come riuscire un po' a perseguire la propria missione ma allo stesso tempo riuscire anche a fare business a fare profitto perché comunque un'azienda così grande ha bisogno di questo sono molto d'accordo che naturalmente le dimensioni più ridotte facilitino il compito di chi vuole fare business in un determinato modo per le ragioni che hai detto tu naturalmente un'azienda presente che produce, distribuisce, vende in quasi tutto il mondo come la nostra nonostante nel mondo del tessile non siamo una grandissima azienda perché ci sono altre aziende molto molto più grandi di noi in termini di produzione, di fatturato eccetera eccetera ma comunque siamo un'azienda che potrebbe definirsi multinazionale anche se siamo ancora una family business e quindi sicuramente dobbiamo far fronte a tutta una serie di compromessi che non possono venire meno trasporti, il tipo di produzione allora lì ovviamente lo schema è lavorare punto per punto per abbassare più possibile il nostro impatto a livello ambientale prima e adesso ultimamente abbiamo introdotto anche un aspetto un po' più sociale perché ci siamo resi conti forse un po' più tardi di quanto avremmo dovuto che poi giustizia sociale e giustizia ambientale sono molto più legate di quanto si pensasse fino a non molto tempo fa però sicuramente come dire l'idea è anche che noi riusciamo a dimostrare ad altre aziende ai nostri competitor ad altre aziende non necessariamente solo del mondo del tessile che sia possibile fare business e condurre un business florido che adesso al netto di tutto quello che è successo nell'ultimo anno è un business sano e allo stesso tempo avere un altro obiettivo che non sia solo il profitto che ovviamente c'è perché siamo un'azienda che fa business ma un altro un bene terzo diciamo che nel nostro caso è descritto nella nostra mission poi naturalmente come dire fa parte dell'essere un'azienda responsabile il conoscere il proprio il proprio impatto il proprio footprint come dicevi tu il mondo del tessile è uno dei peggiori si dice sia il secondo più inquinante al mondo adesso al netto di quanto sia interessante far classifiche sappiamo che sicuramente è uno di quello che crea i disagi delle disuguaglianze sociali più profonde perché tipicamente i lavoratori del mondo del tessile sono i più sottopagati quelli che lavorano in ambienti meno tutelati da molti punti di vista sicuramente è un'industria che inquina molto quindi al di là di quanto sia interessante fare statistiche siamo sicuri che l'industria del tessile partecipa per il 10% alle emissioni almeno insomma attorno al 10% alle emissioni globali di gas serra quindi la crisi climatica di cui parlavamo prima è in gran parte dovuta al mondo di cui facciamo parte quindi l'idea è di lavorare per non essere più parte del problema ma parte della soluzione e quindi portare un cambiamento positivo non solo annullare il nostro footprint ma a caso mai a portare un cambiamento un segno più insomma certo ma infatti hai anche parlato di azienda responsabile non sostenibile infatti sentivo anche in un'intervista il fondatore di Patagonia dire che addirittura odiava la parola sostenibilità perché è un termine talmente abusato ed è anche impossibile per un'azienda essere totalmente sostenibili anche per la più sostenibile delle aziende comunque appunto è una parola che viene usata tanto ma che magari alla fine non vuole dire molto cosa significa invece per te essere un'azienda responsabile? Come dicevi no bisogna conoscere il proprio impatto perché comunque un'azienda ha un impatto è inevitabile Sì naturalmente sono d'accordo con Yvonne Schlinard anche a me la parola sostenibilità insomma è venuta un po' a noia per il fatto che dicevi tu cioè che è sicuramente abusata ormai tutto è sostenibile ecosostenibile eccetera eccetera anche se obiettivamente per noi che siamo un'azienda che produciamo e vendiamo in tutto il mondo quindi con un impatto che sicuramente è grosso e chiamarci sostenibili sarebbe anche un po' così persino un po' ridicolo ma non rinunciamo a essere un'azienda responsabile che vuol dire esattamente quello che dicevamo che dicevi tu adesso Sara cioè conoscere il proprio impatto se noi lavoriamo sul tema della crisi climatica vuol dire che dobbiamo sapere quali sono le emissioni che produciamo lungo tutta la filiera naturalmente dal campo di cotone rigenerativo o dalla fabbrica di poliester riciclato fino agli scaffali dei negozi se possibile anche fino a casa vostra e lavorare per abbassare il più possibile questo impatto e poi naturalmente annullarlo con una serie di opere di compensazione e lì ci sono molti dubbi riguardo a certe pratiche ma molte opportunità perché è naturalmente vero che non può esserci un impatto zero ma questo a livello aziendale ma anche a livello personale basta respirare per mettere CO2 quindi al netto di tutto la responsabilità sta proprio nel conoscere esattamente qual è il nostro impatto sia come azienda singola sia come industria e lavorare come dicevo esattamente come dicevo per essere parte della soluzione invece che del problema e parlavi prima appunto del fatto di mostrare agli altri brand che è possibile non dover scegliere tra sostenibilità e profitto perché molto spesso si parla nella moda sostenibile di educazione del consumatore di come noi dovremmo modificare le nostre abitudini quotidiane di come noi possiamo votare con il nostro portafoglio e Patagonia adesso mi viene in mente un esempio di una campagna di qualche anno fa per il Black Friday se non sbaglio aveva fatto questa campagna pubblicitaria pubblicando una foto di una giacca ad outdoor con la scritta non comprate questa giacca facendo proprio una lista dei costi ambientali dei costi ecologici della produzione di quel singolo capo quindi a livello di educazione del consumatore comunque fate moltissimo passando dal lato brand invece come si può dimostrare agli altri brand appunto che è possibile non dover scegliere tra sostenibilità e profitto è molto difficile è una cosa che cerchiamo di fare da decenni sempre per la consapevolezza che abbiamo che da soli non riusciamo a spostare di una virgola quello che succede a livello globale il sistema di produzione anche il sistema di consumo eccetera e ci sono due fattori però uno è che appunto noi come altre aziende in realtà non siamo certo gli unici per fortuna non siamo in tanti ma non siamo gli unici siamo in qualche modo a dimostrazione di vente che è possibile farlo e quindi basterebbe guardare a quello l'altro tema quello legato ai consumatori è anche importante perché mai come in questo periodo in realtà è la domanda che crea l'offerta la domanda si è sempre più spostata soprattutto con le nuove generazioni verso la ricerca di prodotti o anche servizi insomma qualsiasi campo che siano così per usare un termine così generalizzante in qualche modo etici sostenibile a livello ambientale sociale fair trade eccetera eccetera allora le aziende che già erano lì si sono trovate come dire nel posto giusto e nel momento giusto le start up le nuove aziende che stanno nascendo negli ultimi anni soprattutto grazie a imprenditori più giovani quindi già un po' più illuminati quindi sono già nate con quel criterio sono più facilitate per una questione anche dimensioni noi lo siamo per una questione di tradizione perché abbiamo sempre portato avanti questo discorso naturalmente le altre aziende che diciamo hanno condotto fino adesso uno stile di business as usual però in qualche modo si troveranno prima o poi a dover cambiare i propri il proprio sistema di business il proprio modello di business volenti o non volenti insomma sia perché fa marketing in questo momento cioè è veramente la sostenibilità in senso molto lato adesso è veramente un fattore anche di marketing quindi di conquista di mercato difetto di mercato con poi ovviamente la doppia arma di quello che si chiamava greenwashing adesso si usa un po' meno ma comunque è sempre quella roba lì non è sempre facile soprattutto perché come dicevo nel mondo del tessile ci sono non solo però insomma quello che conosco meglio ci sono delle aziende molto grandi per cui decidere da un giorno all'altro di cambiare il proprio sistema produttivo e passare che so a materiali riciclati o biologici o rigenerativi eccetera introdurre sistemi di riparazione programmi di riparazione come abbiamo noi per esempio qualche altra azienda non moltissime dei capi perché i capi possano durare di più e quindi avere un effetto meno negativo sul pianeta sono tutte cose che non sono così facili soprattutto per grandi aziende che sono un po' più ovviamente elefantiache nel cambiare le proprie cose e soprattutto per aziende come spesso accade oggi che appartengono a fondi di investimento per cui devono rispondere ad azionisti alle banche eccetera e tipicamente aziende che partecipano a questi fondi hanno l'unico obiettivo una crescita standard annuale 20-30% ogni anno in più punto naturalmente le pratiche diciamo di responsabilità hanno un costo per l'azienda e i profitti in qualche modo almeno all'inizio calano questa è una cosa che non tutti sono disposti ad accettare e non tutti sono nella possibilità di poter implementare credo che questo sia il problema più grave in realtà perché altrimenti non ci sarebbe un'altra logica nel non affrontare questi temi da parte dell'azienda visto come va il mercato sì assolutamente ma infatti parlavi anche delle giovani generazioni che comunque stanno cambiando anche il mercato e stanno anche cambiando il mercato del lavoro tra l'altro leggevo passando anche adesso più al tuo lavoro da Patagonia leggevo in una ricerca di umana su un campione di 2000 giovani e 41 aziende che la generazione Z considera il lavoro soprattutto come un luogo di impegno personale e autorealizzazione tu che comunque sei nel mercato del lavoro da diversi anni hai visto questo cambiamento e perché pensi che ci sia questo maggior desiderio di voler trovare anche un senso al proprio lavoro alla propria occupazione quando magari una volta non era così la questione principale del lavoro sicuramente si vede nelle nuove generazioni io che non sono un manager ma tutte le volte che faccio un qualche intervento che so in università o in qualche conferenza portando diciamo il caso Patagonia ricevo mediamente una decina di messaggi su LinkedIn che mi chiedono ah come si fa a lavorare per Patagonia che io prontamente rigiro ovviamente però la vedo questa cosa sono insomma mi sembra anche abbastanza normale che adesso per parlare in soldoni uno al lavoro spende un sacco di tempo al di là della remunerazione che può essere gratificante o no passare un terzo della propria vita facendo delle cose che magari non sono sempre divertenti perché non è che sia sempre come dire però sapendo di fare una cosa che in qualche modo porta degli effetti in cui credi penso sia importante anche a livello personale e soprattutto perché anzi adesso con i lavori un po' più smart probabilmente si lavora in termini di monte ore molto di più di prima no siamo sempre al lavoro rispondiamo sempre alle mail anche alle 10 di sera che è una cosa che è sbagliata se vuoi però anche questa cosa che è tutto più a portata è tutto online tutto digitale è più veloce in qualche modo ti rimanda sempre questa cosa qua allora se stai facendo lavoro per un'azienda che sai che fa del bene in un settore in cui tu credi qualsiasi sia e che in qualche modo tu con la tua fatica con il tuo lavoro con le tue anche delle frustrazioni che puoi avere quotidianamente ma sai che in qualche modo tramite il tuo lavoro grazie al tuo lavoro come dire si aggiungerà un tassello in più a quello che credi è molto più gratificante che andare a fare un lavoro per un'azienda che magari come dire magari non compreresti mai e magari fa una cosa che non ti interessa assolutamente magari non ti interessa assolutamente esatto ma magari non ti interessa però come dire lo fa bene allora è un conto no se io penso di dover andare da un competitor a lavorare per me sarebbe impossibile venendo da Patagonia a meno che di trovare non so la nicchia quel piccolo produttore ok ma stando nel mondo del tessile dove altro vuoi andare e anche quando fra vent'anni non lavorerò più per Patagonia non andrò mai a comprare altrove perché so cosa c'è dietro certo e questa cosa qua me l'ha data il fatto che lavorassi qua esatto quindi il lavoro diventa sì anche un modo per andare verso i propri obiettivi personali e coltivare anche i propri valori personali quindi non è più un discorso ok finisco alle 18 di lavorare poi penso a quello che mi piace è un tutt'uno e anche all'inizio quando ci spiegavi del tuo lavoro che te lo sei un po' creato c'è anche questo discorso che oggi il lavoro è sempre più personalizzabile è sempre più facile cucirselo addosso diciamo e quindi anche se parliamo di generazione Z che tende a voler seguire più sogni ambizioni e desideri personali rispetto magari a portare a casa uno stipendio alto punto diventa uno stimolo in più anche per le persone che si stanno facendo nel mondo del lavoro sapere che possono veramente trovare qualcosa in linea con i propri valori ad esempio che consigli daresti per chi si sta approcciando adesso al mondo del lavoro per fortuna non sono nell'HR quindi e mi sono approcciato al mondo del lavoro qualche decennio fa quindi le cose sono sicuramente cambiate e è meglio come dicevi tu al netto delle difficoltà insomma legate alle crisi varie però in termini di possibilità di offerta perché molti lavori sono diventati più variegati più smart quindi è anche più facile trovare come dire la propria viuzza all'interno di strutture organizzative che non sono più così rigide come prima cioè prima all'interno dell'azienda tipicamente le figure erano dieci erano quelle adesso se guardo anche l'organigramma di Patagonia spesso non so cosa fanno i miei colleghi perché ogni tanto esce un ruolo nuovo per cui sicuramente a farsi sotto l'idea sempre anche per cominciare soprattutto per cominciare di trovare un'azienda che in qualche modo risponda alle proprie ambizioni personali e come dicevo non necessariamente in termini di profitto di remunerazione ma è quello che insomma che dicevi anche tu alla fine come dire il lavoro investe talmente tanto delle nostre vite in termini di energia di tempo che se si riesce a trovarne uno che è cucito su di noi magari non si riesce subito ad entrare nel mondo del lavoro con quello che vorresti fare da grande magari ti ci vogliono anni o decenni ma poi se vuoi puoi arrivarci entrare nel posto giusto ovviamente non accettare il primo lavoro che capita ma diciamo magari non quello subito dei tuoi sogni ma quello subito a fianco poi puoi modellarlo perché trovo che le aziende in questo momento siano anche più inclini è un po' cambiato anche il rapporto proprio con le HR in generale anche un po' più inclini a modellare e fa sì che i dipendenti riescano a seguire i propri stimoli anche le proprie capacità forse sono rese conto che è anche un modo per essere più produttive perché se io faccio quello che mi piace lavoro meglio lavoro di più se l'azienda riesce a cucirmi addosso un lavoro quasi sartoriale io sono più soddisfatto più contento lavoro di più e l'azienda non ha che benefici a questa cosa qua certo ed è così che si creano questi ruoli un po' più fluidi un po' più aperti in cui è sempre più difficile da spiegare ai genitori magari perché appunto è totalmente cambiato rispetto a 10-20 anni fa che prima appunto si poteva dire ah io faccio questo ed era molto semplice da capire ora diventa difficile come dicevi anche capire cosa fa il collega perché magari appunto sono ruoli molto molto variegati esatto esatto credo che ci siamo non so in Europa credo che sia negli uffici sono ormai 80-100 persone e credo che ci siano 60 job title diversi da una cosa e l'altra quindi è davvero difficile spiegare spesso si aprono delle posizioni che non saprei neanche da che parte guardare però è una cosa bella vuol dire che anzitutto il lavoro è diversificato anzitutto ognuno può fare in grosso modo quel che vuole perché se tu entri nel mondo del lavoro è una scelta tra due posizioni è un conto se hai la scelta tra 20 riesci a decidere quale si adatta meglio anche a te quindi in termini di ambizioni personali e di gratificazioni personali come dire sicuramente è un passo in avanti rispetto a prima e invece come come è possibile instaurare con queste nuove generazioni appunto la generazione Z di cui tanto si parla un rapporto più empatico e più di fiducia proprio come azienda come brand a livello strettamente di marketing per noi soprattutto che non è molto facile stiamo approcciando adesso le nuove generazioni a livello insomma di comunicazione c'è una cosa che secondo me è molto importante che le nuove generazioni se vogliono hanno la possibilità e la capacità di informarsi molto di più di quanto potessi fare io alla loro età e quindi tornando al fatto che la domanda soprattutto per le nuove generazioni è sempre più orientata a prodotti servizi come avremmo chiamato prima etici in qualche modo significa che loro sono molto più attenti al fatto che un'azienda sia il più possibile trasparente anche con i propri errori per cui sia più credibile abbiamo fatto stiamo facendo questa cosa ci porterà a questo risultato abbiamo fatto questa cosa e siamo accotti che era sbagliata magari non ce ne siamo neanche accotti a noi ce l'ha detto l'associazione animalista e abbiamo cambiato completamente la nostra produzione per dire però uscendo allo scoperto in questo modo si ha il duplice effetto che intanto come dire le informazioni passano anche alle altre aziende sempre nel tema di non tenersi troppo per sé le cose che si fanno soprattutto per bene ma anche creano un rapporto di fiducia come lo chiamavi tu con chi si vuole approcciare per dire ok intanto vuol dire che loro sanno quali sono i loro limiti hanno scoperto quali sono alcuni errori li hanno tranquillamente dichiarati non è sempre così facile eh e hanno lavorato per risolverli perché tanto come dire come dicevi tu all'inizio aziende perfette non ce ne sono e credo che questa cosa di essere credibili sia il tema vincente per cui uno può anche permettersi di fare una campagna ambientalista senza più troppe remore per il fatto di poter essere giudicati come quelli che fanno anche rewashing ma infatti è molto difficile riuscire a dire ok sì questo l'abbiamo fatto ha funzionato ha portato a risultati positivi ma dire anche ok in questa cosa noi abbiamo agito così abbiamo sbagliato abbiamo imparato ora faremo questo non è molto semplice ed è quello che alla fine ispira più fiducia soprattutto appunto per un pubblico così critico sì il pubblico è sempre più critico poi come dire ormai il diritto di critica si è un po' allargato e ormai come dire poi diventa fazioso eccetera eccetera questo capita per tutto capita anche nel mondo del business per cui poi uno si schiera per lo più però è esattamente come dici tu forse gioca di più non solo il riconoscere ma il dichiarare i propri errori che non il comunicare tutte le cose buone che si fanno certo ma infatti adesso arriviamo anche alla parte proprio della gestione della community di attivisti no Patagonia si considera una compagnia di attivisti e anche una delle frasi che appunto sempre del fondatore di Patagonia è che ok è facile deprimersi vedendo tutto quello che succede ma la cura per la depressione è l'azione è fare qualcosa di positivo quindi cercare di fare del proprio meglio e Patagonia ha sempre avuto una fortissima responsabilità in questo senso e ogni volta che appunto con un'azione con una nuova campagna eccetera si immerge sempre di più nel mondo dell'attivismo ambientalista si assume anche moltissime responsabilità perché comunque dice ok noi stiamo facendo questo stiamo lottando per questi obiettivi ma allo stesso tempo ci prendiamo molte più responsabilità quindi sia come azienda sia nei confronti poi della community e quindi non è per niente facile gestire una comunicazione e trovare l'equilibrio tra appunto le azioni che si fanno un buon modo per comunicarle e il rischio di far sembrare alcuni temi trattati un po' strumentalizzati per fini di marketing quindi è molto molto delicato l'equilibrio che avete creato secondo me sì è molto delicato sì sì no sicuramente non è sempre facile quando io sono entrato in Patagonia ti dicevo non sapevo niente di quello che l'azienda facesse naturalmente faceva meno di adesso perché erano anche altre dimensioni ma perché in realtà non lo comunicava cioè io conoscevo Patagonia perché avendo lavorato in montagna vedevo i capi di Patagonia appunto questo è un po' per pudore perché per evitare di essere additati come in Greenwasher la campagna di cui parlavi tu prima don't buy this jacket non comprate questa giacca che è uscita in un Black Friday ormai dieci anni fa su New York Times non era una campagna di marketing ma era esattamente vuol dire esattamente quello che diceva nonostante questa sia una delle giacche diciamo più sostenibili che facciamo comunque ha una serie di impatti che voi non sapete non vedete probabilmente non sono neanche dentro il prezzo che pagate per cui compratela solo se vi serve però questa cosa qua si è trasformata poi in realtà in una campagna di marketing perché quel pile lì quella giacca lì che era il nostro pile iconico per l'outdoor è sparito è andato a ruba persino qua in Europa sempre Schwinard dice che tutte le volte che fai qualcosa per bene ne ricavi poi del bene per cui sì è sempre una cosa un po' un'arma a doppio taglio e spesso bisogna camminare un po' sulle uova però di nuovo una volta che l'azienda diventa credibile e che mette come dire a disposizione anche i propri limiti poi questa percezione prima o poi svanisce no penso anche nell'immaginario comune cioè se pensi a moda sostenibile se pensi a azienda sostenibile Patagonia è tra le prime che ti vengono in mente quindi sicuramente questa cosa ha funzionato e questa cosa viene percepita sì no sicuramente sicuramente adesso ci esponiamo senza senza più molte remore in questo senso qui anche quando siamo sicuri di non essere molto preparati adesso per esempio abbiamo aperto tutta una discussione riguardo all'inclusione la diversità eccetera perché eravamo proprio un po' troppo fermi sugli aspetti solo ambientali mentre prendersi cura del pianeta vuol dire e prendersi cura delle comunità vuol dire anche quello totalmente impreparati naturalmente perché è una discussione del genere non poi inventata da un giorno con l'altro e fare una campagna con quel colore arcobaleno quindi siamo entrati con i piedi di piombo dicendo noi ci entriamo stiamo cominciando a parlarne non ne sappiamo ancora molto ma è una cosa che porteremo avanti quindi anche in quel modo lì anche in quel senso lì abbiamo cercato di in qualche modo sicuramente di proteggerci da eventuali critiche ma di mettere nero su bianco il fatto che noi siamo consapevoli che non sappiamo bene come parlarne ma che è una cosa che vogliamo imparare a fare ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando lo rende anche un po' più umano forse se vuoi e comunque sicuramente sì di nuovo torno al tema della credibilità non ti sto dicendo ah noi lottiamo per i diritti di tutti ti sto dicendo noi vorremmo iniziare a lottare per i diritti di tutti perché ci crediamo ma per noi è un tema ancora un po' delicato un po' nuovo e quindi intanto impariamo ma è anche un modo per non banalizzare certi temi che banali non sono quindi dire ok sappiamo che è un tema complesso sappiamo che abbiamo magari della strada da fare abbiamo delle cose da imparare e quindi ci rendiamo conto che non è che da un giorno all'altro noi possiamo appunto uscire subito con tutto pronto e dire ok noi siamo così e così e così ma è un percorso è sempre un percorso e c'è sempre qualcosa da imparare quindi ancora lì ancora una volta ritorna il tema del costruire una credibilità cioè far capire che ci sono delle persone che stanno lavorando dietro questa cosa e che insieme stanno appunto crescendo sì sarebbe anche sempre un tema di se vuoi di marketing e di comunicazione no? sarebbe molto poco credibile che un'azienda che non ha mai parlato di questi temi da un giorno con l'altro no? di questi temi cosa che purtroppo succede di solito cosa che succede sì spessissimo per i temi sociali per i temi ambientali eccetera quindi come dire costruire un percorso e renderlo pubblico partecipa al fatto che la gente percepisca l'azienda come più credibile e un po' più trasparente assolutamente e invece raccontami un po' come funziona proprio nella pratica la parte della gestione della community di attivisti cioè in che modo supportate l'attivismo locale allora in molti modi in realtà appunto l'idea di creare intorno ai negozi soprattutto l'idea del negozio di Patagonia retail che ha avuto sempre Juan Suenard Malinda sua moglie che fossero un dono per la comunità quindi non solo un posto dove uno entra e compra la roba ma un posto dove che in qualche modo fungesse da fulcro di questa comunità di attivisti no? e questa è un po' l'idea che c'è dietro a una figura come la mia no? sempre per il fatto che bisogna prendersi cura anche delle comunità locali in cui operiamo in cui viviamo in cui lavoriamo è che tutto sommato partecipano alla nostra ricchezza è un modo di ridare indietro in qualche modo per cui abbiamo creato negli anni stiamo sempre lavorando per creare connessioni con associazioni di attivisti che lavorano ovviamente sui temi che ci sono più cari quindi in questo momento la protezione della biodiversità la transizione agricola la transizione energetica e adesso appunto sta entrando questo filone più legato ai diritti e alla diversità e all'inclusione e cercando anche di metterle in relazione tra di loro spesso abbiamo notato che ci sono più associazioni che lavorano sullo stesso tema e o sono in conflitto o nemmeno si conoscono eccetera con l'idea anche di prendere le campagne più corporate e di rimodellarle includendo gli attori locali rimodellarle proprio per la scena più locale poi c'è un programma di granting quindi di sovvenzione economica dei progetti delle associazioni ci sono dei programmi educativi di training delle associazioni supportiamo le campagne locali e non locali come possiamo quindi con la comunicazione con fundraising eccetera eccetera quindi in vari modi però con l'idea principale di creare un sistema diciamo più connettivo e anche in qualche modo di far orientare altre aziende e altre istituzioni a far parte di questo circolo perché naturalmente non possiamo essere i soli a partecipare al movimento attivista neanche come azienda quindi diciamo come dicevo prima quando parliamo di community di attivisti non è necessariamente solo riferito al senso classico del no profit ma a tutte quelle realtà a tutti quegli attori che vogliono partecipare questo percorso e questa è una strada un po' più nuova per noi che insomma cerchiamo di poter avanti da qualche tempo ma non da troppo tempo è molto bello questa cosa cioè di creare delle attività che vadano anche al di là del puro marketing della pura vendita anche intorno ai negozi perché a un certo punto abbiamo smesso di essere delle persone e siamo diventati dei consumatori e quindi è bello che voi prendiate dei consumatori e li facciate diventare in realtà li facciate tornare delle persone degli attivisti delle persone che appunto imparano e provano a cambiare le cose in qualche modo sì non sono ma secondo me come dire ormai il retail cioè il negozio fisico è un'arma importante per la vendita ma non è più la sola ormai cioè l'online è esploso quindi il negozio in qualche modo si deve trasformare in un luogo che non sia solo la vendita certo tu puoi venire lì provare la taglia poi se non ti piace il colore ti compi quello che ti piace online e va bene ma devi venire lì e anche imparare che si possono riparare le cose come ripararle da chi andare se voglio se voglio entrare nel mondo dell'attivista e mi interessa la qualità dell'aria piuttosto che l'agricoltura come posso aiutare la mia comunità sono tutti diciamo servizi extra vendita che però credo diventeranno sempre più importanti assolutamente assolutamente allora un'ultima domanda abbiamo già parlato di cosa significa sostenibilità per te prima ma quali sono i tuoi consigli un po' così in generale per diventare un pochino più sostenibili qual è la tua definizione di sostenibilità come ti dicevo la parola sostenibilità è una parola che ultimamente soprattutto uso un po' più con le pinze ma l'idea principale sia a livello personale poi no di ciascuno di noi che a livello più aziendale se è forse proprio più quello della responsabilità cioè conoscere quello che facciamo e come i nostri comportamenti anche individuali hanno un impatto sul mondo e questo a tutti i livelli a livello sociale a livello ambientale e a tutte le scale dal molto locale al globale e anche a livello personale lavorare perché come dire il nostro la nostra orma sia un po' più leggera e casomai per portare delle piccole o grandi note positive naturalmente è un percorso complicato e frustrante questo va detto perché come sempre accade più porte apri e più se ne aprono no quindi in qualche modo l'ignoranza ti salva dal dover affrontare delle scelte però è un percorso che ti rende un po' più consapevole dei tuoi limiti e delle tue ambizioni nel senso che poi ci sono delle scelte che io so che non potrò mai fare e che sarebbe meglio fare per il pianeta ma io non farò mai probabilmente altre che faccio più facilmente naturalmente poi in questo gioca molto la personalità di ciascuno però è proprio questo cercare di aprire qualche finestra ogni tanto con il rischio non calcolabile ma piuttosto sicuro che appunto più porte apri e più sei costretto ad aprirle come dicevamo prima anche è molto più semplice adesso riuscire a informarsi sulle cose cioè siamo talmente bombardati di informazioni che è impossibile dire no non lo sapevo esatto quindi era una cosa che si poteva fare fino a qualche annetto fa dire vabbè ma non lo sapeva vabbè non ci ho pensato ma adesso è molto più difficile dire ok voglio diventare sostenibile o comunque più responsabile e e non farsi sopraffare da appunto tutta una serie di informazioni e tutta una serie di dati che abbiamo sì poi come dire adesso soprattutto siamo persino troppo sommersi di informazioni spesso contrastanti anche lì poi bisogna ormai bisogna cercare la fonte giusta perché le informazioni sono spesso mediate da da come dire altri fini però sicuramente è un come dire non capisco più come si possa oggi vivere ignorando alcuni temi no che sono poi quelli che di cui effetti poi si ritorcono contro di noi no dalla la qualità dell'aria alla qualità di quello che mangiamo alla qualità di quello che vestiamo la chimica che abbiamo addosso tutti i giorni o che non abbiamo addosso cambia tutto no poi bisogna fare il conto con molte cose non ultima le possibilità economiche però credo che ormai come dire tutti possano in qualche modo affrontare il tema ci sono molti modi per cui ridurre il proprio consumo e comprare meglio poco e meglio non vuol dire necessariamente spendere molto di più c'è tutto il tema della seconda mano delle riparazioni eccetera eccetera quindi però come dicevo è sicuramente un percorso frustrante perché poi uno più indaga più capisce che non arriverà mai allo zero esatto sono riuscito a fare questo ah no ma sto facendo ancora quell'altro quindi è sempre non so sono riuscito a rifare questo e poi dici però potevo fare un passo in più e facevo ancora meglio ma sono pronto non sono pronto quanto mi costa a livello di cambiamento delle proprie abitudini eccetera eccetera però ecco ci si mette in gioco anche con quello perché poi uno è legato ai propri cliché no come in tutte le come in tutte le cose della vita e per cui siamo essere assolutamente abitudinari l'idea di cambiare le proprie abitudini anche sapendo che sarebbe meglio per la nostra salute per la salute di chi c'è accanto eccetera eccetera per cui in termini di consumo di vestiti di spostamenti di cibo e quindi credo che la grossa difficoltà sia quella devo andare in bicicletta invece che in macchina poi ci metti meno lo sai che ci metti meno però devo andare in bicicletta pensi sia impossibile poi basta provare spesso ecco perché magari è appunto più semplice per le generazioni più giovani perché appunto stanno magari ancora forgiando le proprie abitudini fare un cambiamento rispetto a persone di altre generazioni un po' più un po' più grandi che hanno avuto le stesse abitudini per anni e anni e anni è un po' il discorso che facevamo con le aziende è molto più semplice partire con una start-up sostenibile giovane che parte sostenibile da zero che cambiare una grossa azienda che appunto ok è sempre agito in un certo modo e si trova a dover cambiare tutto totalmente quindi un po' ma infatti io ho un figlio di cinque anni adesso per usare un esempio molto molto banale quando io ero giovane non c'era i rifiuti non venivano riciclati non venivano diversificati e quando ci hanno detto passeremo col porta a porta nel posto dove abitavo e dovete separare il vetro dall'umido per noi sembrava una roba impossibile mio figlio adesso ha cinque anni sa dove è il bidone della carta dove è quello del vetro capito quindi e questa roba qua ovviamente si facilita facilita il loro compito se vogliamo perché sono già nati e cresciuti non solo quei cinque anni ma insomma tutte le generazioni più giovani anzi sono loro magari a portare appunto le abitudini le buone abitudini in casa spesso sono loro sì sì spesso sono loro che rompono le scatole in famiglia e quindi e quindi alla fine non si fa più in macchina per dire ma ci dà un po' di speranza dai per il futuro allora Stefano ti ringrazio tantissimo perché è stato veramente molto interessante abbiamo toccato dei temi che appunto non abbiamo mai toccato negli altri podcast e quindi è stato veramente super super interessante parlare con te quindi grazie ancora per la tua disponibilità e il tuo tempo grazie a te quando volete io ci sono e quindi alla prossima per questo episodio è tutto grazie per aver guardato e ascoltato il podcast di Intrecci Etici se non l'avete ancora fatto vi invitiamo a guardare il documentario Intrecci Etici disponibile in esclusiva su Infinity TV e a seguirci sui nostri canali social Instagram Facebook e YouTube link in descrizione alla prossima Grazie a tutti Grazie.